ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale guardate che pacchettone immenso di kit perché praticamente contiene questo oggi faremo kit dal numero 81 al numero 85 vedete questi sono i componenti questa è la parte del telaio che una volta finita la macchina ve lo farò vedere meglio e niente quindi andiamo subito a vedere che cosa bisogna fare dal numero 81 numero 80 no 85 sono cinque numeri quindi si 85 quindi andiamo a farli andiamo a vedere che cosa bisogna fare nel numero 81 dai allora ragazzi adesso andiamo a montare il fascicolo numero 82 adesso prima però andiamo a vedere il fascicolo ok allora praticamente parla nel mirino del laser episodio 21 stagione 3 se volete potete stoppare ma non lo ripeto più e qua parla del fascicolo ok e dell'episodio bene adesso un attimo che sistemo meglio ecco e niente qua abbiamo sempre diverse pagine come potete notare e qua abbiamo le fasi di assemblaggio in questo numero monteremo la struttura interna gli ancoraggi del paraurti anteriore quindi si continua con i paraurti scusate ma me ne sono accorto dopo che c'era questa cosa qua del paraurti quindi niente adesso comunque si fanno tutti i passaggi ci vediamo tra un secondo sul canale come sempre calcolo dell'elevazione e della deviazione quasi parla bellissimo e niente quindi adesso ci vediamo tra un secondo sul canale con il risultato ottenuto e del numero 82 dai andiamo a farlo ed eccoci qua con il fascicolo numero 81 di kit ragazzi allora vi faccio vedere un attimo e il fascicolo e poi dopo andiamo a vedere i componenti allora l'opera è composta come ben sapete da 110 uscite e e la prima uscita ci abbiamo dato e 50 centesimi la seconda 5 euro e dalla tassa in poi 11 euro che io ho pagato ovviamente appresso e così non hanno aumentato con l'abbonamento non avevano aumentato la clinica della scienza seconda parte e l'episodio 20 e stagione tra qua abbiamo diversi immagini del film come sempre ma non ci soffermiamo più di tanto se volete potete stoppare benissimo per l'agero e poi abbiamo in questo numero monteremo i tre fare anteriori sul lato d'astro dei paraurti quindi cosa si fa si va a recuperare il numero 2 dopo tanto tempo nell'uscita 81 si monta l'uscita numero 2 cioè si prosegue con il montaggio che l'altra volta avevamo fatto l'altra parte poi ce lo fanno vedere anche qua in figura che manca l'altra quindi andiamo a farlo e tra un secondo ci vediamo qua sul canale risultato concluso andiamo a vedere che cosa bisogna fare dai ed eccoci qua ragazzi guardate lo scanner di kit e il davanti adesso andiamo a vedere le fasi di assemblaggio come si presenta per fare andare queste fantastiche luci di kit quindi andiamo a vedere le fasi di assemblaggio allora qua abbiamo il fascicolo numero 81 ricordo praticamente per prima cosa dobbiamo fissare il penino come la stessa cosa che abbiamo fatto nella seconda uscita con una vita questo penino qua mettetelo nel verso giusto comunque c'è il disegno vi dovete c'è riuscite a capire bene dove poi praticamente dobbiamo fissare questi cioè no bisogna mettere i vetrini e quindi li collochiamo inserendoli nei tre vetri dei fari cioè nei supporti dei fari poi dopo quando abbiamo fatto questo uniamo le cornici e lo fissiamo il tutto con 6 viti AP 2 per ciascuno per ciascuno poi abbiamo anche cioè dopo li mettiamo tutti in sari in sede con 2 viti AM ciascuno quindi vedete e adesso vi faccio vedere meglio il risultato poi abbiamo dei supporti che coprono che potevano anche evitare di metterli secondo me dovevano fare un'altra cosa sai nel senso non serviva a mettere questi pezzettini di plastica secondo me e lo dovevano fare completo senza buchi senza nulla e lo fissiamo con 4 viti BP quindi fatto questo scatacchiamo il cavo quello con la lettera R verde e mettiamo tutti i cavi led all'interno sono 6 e 3 a parte quindi sinistra e destra questo è il risultato finale del numero 81 ed eccolo qua ragazzi vedete che spettacolo mancava una parte dei fari e vi faccio vedere dal di dietro che cosa abbiamo fatto vedete qua abbiamo messo i supporti da questa parte abbiamo aggiunto i led lo scanner c'era già perché era nella seconda uscita che ci davano i tasti di prova comunque ho avuto cioè ho un problema nella batteria ripeto quindi dovrò risolvere e sperando che D'Agostini mi rispondi al più presto possibile così facendo dovrei sistemare tutto kit quindi dopo andranno tutte le luci e tutto quanto vedete questo pezzettino qua il verde deve stare così e quindi adesso andiamo a provare anche lo scanner di nuovo eccolo qua ragazzi bene andiamo avanti con i prossimi numeri che mancano gli altri numeri di questo qua ecco andiamo a vedere che cosa c'è da fare dai non vedo l'ora andiamo ed eccoci qua ragazzi dal numero 82 al numero 84 e no al numero 85 scusate ho fatto tutti i numeri ma per questione anche di tempi che così ci affrettiamo di più allora vi devo solo spiegare nell'82 che vi avevo già fatto vedere il fascicolo qua allora abbiamo praticamente abbiamo preso il nostro praticamente parte anteriore e abbiamo separato i cavi cavo lungo e cavo corto e allora nel cavo lungo che è quello verde e bianco bisogna mettere una staffa con due viti AM e niente poi dopo dall'altra parte dobbiamo unire con due viti AM sempre io avevo sbagliato buco ed è successo una zona comunque vabbè ho aggiustato poi mettiamo la parte in plastica e lo fissiamo il tutto con quattro viti GM due a parte sinistra e due a parte destra poi mettiamo anche questo supporto qua che è in plastica sempre con due viti BP e con altre due viti BP lo mettiamo ah mettiamo l'altro supporto dall'altra parte sinistra e questo è il risultato del numero 82 adesso andiamo a vedere il fascicolo numero 83 poi andiamo a vedere anche i componenti del montaggio che ho fatto kit al circo si parla episodio 22 scusate ragazzi mi soffrivo un secondo perché io ho stoppato queste parti qua voi lo vedete in un minuto il video però io ci ho messo del tempo tipo un mesetto circa massimo due e ho dovuto recuperare il pistone del cofano che si era spaccato ecco perché non sono andato avanti a fare video e tutto quanto scusate per il disastro adesso si parte più forti che mai con kit e farò molti numeri ok quindi il prossimo pacco che vedrete io vi farò vedere che cosa c'è dentro e poi per motivi di tempo che volevo fare un botto di numeri vi faccio vedere il montaggio dritti dritti qua vi faccio vedere la spiegazione del fascicolo ma anche là cioè nel senso io faccio vedere dall'86 in poi nel prossimo pacco il fascicolo la spiegazione e tutto quanto ma dopo cioè prima faccio il montaggio per conto mio lo so che è un po' complicato confusionare la cosa ma dopo vedrete come intendo fare allora qua si parla dell'episodio quindi andiamo a palla con il fascicolo qua è tutta la spiegazione del fascicolo che se volete potete stoppare benissimo e qua abbiamo praticamente l'indicatore di direzione sul parafango destro allora bisogna fare la stessa cosa in quella parte sinistra che io ho appena fatto e vi faccio vedere il risultato vedete dobbiamo mettere praticamente e dobbiamo girarlo e mettere la freccia questa è quella a sinistra ma fate conto che è uguale vi spiego man mano poi dobbiamo mettere questo supporto in plastica che va avvitato con due viti vi dico subito due viti M e questo è il risultato ottenuto del passo numero 85 vedete questi sono i componenti che dobbiamo tenere da parte per il momento anche l'orologio eccetera eccetera però l'orologio non andrà mai a metterlo nel modellino poi ho confuso i fascicoli ma non è nessun problema e andiamo a vedere l'84 la quarta stagione quindi inizia la quarta stagione spiegano tutte le scene plausibili del film guardate che spettacolo che cosa ci sarà di nuovo che kit nella quarta stagione e ultima gli modificano e lo fanno alla super velocità quindi ha un pilota cioè ha un tasto che premete e diventa super veloce è tanta roba ragazzi io quest'estate l'ho visto e poi c'ha un sistema anche per il ferro è fenomenale quindi in questo numero monteremo il cofano motore e parafango anteriore quindi dobbiamo mettere questi componenti qua come potete notare e niente si dobbiamo montare queste parti qua vedete quindi mettiamo la griglia nella presa d'aria e lo fissiamo con due viti G e BP poi mettiamo anche questo supporto in plastica con tre viti M e niente recuperiamo l'insieme del cofano e qualche goccia di lubrificante infatti qua ci avverte perché ho notato anche io che fa fatica ad aprirsi quindi fate attenzione che dopo vi faccio vedere il risultato e niente dopo abbiamo quattro viti GM da fissare nel cofano che io ho già fatto e off camera e poi rovesciamo di nuovo l'insieme e vediamo come si apre mi raccomando non apritelo molto perché può fare dei danni e infatti a me mi si è staccato una cerniera e diversi grossi problemi come il pistone che si è spaccato quindi io eviterei di aprirlo molto più là purtroppo il cofano dopo ve lo faccio vedere meglio ha diversi difettucci allora e poi mettiamo la parte anteriore destra e lo fissiamo con due viti EM da una parte e dall'altra che è questa qua con due viti però VM attenzione questo è il risultato del numero 84 dopo ve lo faccio vedere meglio andiamo all'ultimo del pacco formula kit prima parte episodio 1 stagione 4 parlo un po' sempre del film ma non ci soffermiamo sul film ma bensì sul montaggio che abbiamo già fatto è la parte sinistra che vi ho fatto vedere un minuto fa quindi non serve le spiegazioni e si parla di juggernaut bellissimo adesso andiamo a vedere dall'86 ah no prima vi voglio far vedere il modellino di kit come si presenta poi è pesantissima ragazzi peserà 5 kg tipo allora qua abbiamo il cofano ve lo voglio far vedere in prima vista e ho messo a posto anche il teggi cristallo che si era staccato solo che qua è rimasto un gozzo di colla e quindi lo dovrò pulire bene il vetro vedete questo è il suo massimo di apertura del cofano però ci sta tutto sommato diciamo che fa un po' fatica a chiudersi il cofano però se lo incastriamo a dovere dovrebbe chiudersi dopo lo chiudo io off camera perché se no facciamo dei danni poi qua abbiamo la parte d'astra già assemblata vedete e dall'altra parte rovesciandolo gli ho messo le viti l'unica cosa del cofano della cenina del cofano una vite non ci andava e l'ho sostituita con un'altra però niente alla fine l'ho lasciato libero quindi manca anche una vite qua però io ho sostituito tutte le viti perché ho perso quelle che ci volevano ma va benissimo basta che ci sta tutto il terzo di cristallo io ho messo un gozzo di colla nel nel supporto perché se no non ci sta poi c'era spaccato anche un terzo di cristallo quindi io ho cercato di farlo al meglio il pezzettino non ho ordinato nulla lì allora adesso mi deve arrivare solo il numero 43 se non vado errato per i cavi che anche le luci non è il loro massimo e hanno anche lì dei difettucci cioè per esempio non si accendono tutte le luci e fa cortocircuito questo perché allora io ho cambiato la scheda elettronica non era quello ho cambiato il porta batterie non era quello e ho guardato i cavi che quando voi li testate tutti non dovete mai scollegarli perché se li scollegate e li rimettete scollegate e rimettete eccetera eccetera sempre così cosa succede che dopo nel tempo si rovinano fanno talmente schifo che nel tempo si rovinano comunque questo modellino ha difatti ma cioè bisogna ripararli infatti io maggior parte dei difatti che ho avuto che molti si lamentano io li ho riparati bisogna aspettare e avere molta molta pazienza soprattutto con l'icofono che vi ho detto che la maggior parte del cofano si apre così comunque ci avevo pensato anche io per mettere lubrificante non l'ho messo io non l'ho messo poi decidete voi se volete questa altezza o un pochino di più però mi raccomando non esagerate perché i piastoni li hanno fatti in plastica un'altra cosa hanno sbagliato io li avrei fatti in metallo decisamente perché in metallo secondo me resistono di più come nelle macchine vere cioè nelle macchine vere mettono i pistoni magari in metallo e quindi resistono di più nel tempo perché se voi andate a aprire un cofano non è il massimo che vi cade sopra la testa che fa un dolore perché è tutto metallo cioè questo vi faccio sentire che è metallo come questa parte qua comunque vando alle chiacchiere andiamo a vedere e andiamo a vedere il prossimo pacco quindi adesso vi faccio vedere tutti i fascicoli dopo faccio il montaggio di questi fantastici cinque numeri off camera e poi ci vediamo di nuovo nel video dai andiamo a vederlo allora abbiamo qua i fascicoli dal numero 86 al 90 vedete qua abbiamo tutti i componenti bellissimi abbiamo anche la parte dietro ho visto e niente poi abbiamo i fascicoli come potete notare abbiamo dal numero 90 vabbè adesso sono giù tutti quanti comunque adesso andiamo a fare questi fantastici cinque numeri come sempre e ci vediamo tra un secondo sul canale allora ragazzi abbiamo fatto i componenti di kit dal 86 al numero 90 allora si parla del formula kit seconda parte nel fascicolo episodio 2 stagione 4 e vi ripeto che se volete stoppare lo potete fare comunque vi volevo avvisare che lo fa anche Lorenzo è molto cioè è bravo a montare i modellini cioè no diciamo kit e lo sta facendo anche lui adesso con l'abbonamento quindi se vi va andatelo a seguire mi raccomando eh allora qua abbiamo praticamente le fasi del parafango e praticamente dobbiamo mettere la griglia della presa d'aria come abbiamo fatto l'altra volta quindi non vi sto a spiegare molto e in quella d'astra quindi la stessa cosa poi dobbiamo recuperare il paraurti anteriore di kit nella seconda uscita e dobbiamo mettere una barra adesiva nera io non capisco un po' il senso scusate ragazzi ma perché non hanno fatto un pezzo nero semplicemente e basta e eravate già a posto cioè io non ho capito sta cosa qua che hanno messo la barra adesiva vabbè e poi si va a fissare nel telaio girandolo ovviamente con una vite GM dopo vi faccio vedere meglio e con due viti GM nell'altro lato che c'è il parafango quello destro poi dopo facciamo passare tutti i cavi e qua da questa parte e lo fissiamo con un pezzo di nastro che poi bisogna anche togliere io non capisco anche questo senso qua che senso ha mettere prima i cavi poi togliere l'adesivo e metterlo un altro e togliere anche l'altro no l'altro mi pare che rimane e poi dopo mettiamo tutti i cavi per bene e con due doppi fissaggi fissiamo con quattro viti AM2 per ciascun lato questi supporti qua quindi alla fine rimane vedete qua e dobbiamo rimuovere il pezzo e no dobbiamo mettere l'adesivo quindi ci sta e mettiamo due pezzi di nastro come sempre poi dopo lo andiamo a mettere nel parafango sinistro lo andiamo a mettere nel telaio quindi questa bella trovata mi piace un sacco perché vi nasconde i cavi non è come altre macchine che ci fanno passare i cavi da sotto il telaio eccetera non ha senso quindi secondo me hanno fatto una cosa fantastica questa è una bella trovata poi rovesciamo il modellino e fissiamo la parte anteriore del parafango sinistro con due viti M scusate però la fase è veramente lunga e poi altre due viti VM attenzione VM e dall'altra parte quindi blocchiamo il parafango fatto questo come ultima fase fissiamo il tutto con due viti GM nella parte davanti dove c'è il il paraurti quella quella parte del numero due che vi ho detto prima adesso vi dico il paraurti anteriore esatto allora andiamo velocemente a vedere il numero 87 quindi numero 87 si parla di Peter Parros molto bello è un attore cioè non ho capito di che cosa si tratta se la voce di Keith boh non ho capito e in questa uscita semplicemente andiamo a montare l'unotto posteriore sono poche fasi perché vanno avvitate due viti AP per ciascun passo della cernina bisogna metterla dritta mi raccomando controllate dopo che si apre e si chiude e poi lo fissiamo il tutto nella carosseria e lo fissiamo con due viti AM una per parte attenzione verificate se si chiude si apre e poi andiamo a testare le luci che io ho avuto un problema con la scheda elettronica l'ho provato con il tester del Titanic vi faccio vedere questo qua per intenderci e funzionano ho provato solo le luci il motorino non l'ho ancora provato ma adesso mi deve arrivare per fortuna il perso della scheda elettronica per la terza volta perché una scheda elettronica l'ho persa e vedremo se è il problema della scheda elettronica poi si è spaccato anche un cavo quindi devo sistemare tanto per chiudere tutto per far andare tutto eccetera è l'ultima uscita 110 quindi sono ancora un bel point la modalità super seguimento e basta quindi abbiamo anche la modalità super seguimento come vi ho detto schiacciando un pulsante nella stagione 4 che aggiungono e quindi va a busso la macchina e sì comunque ci sono dei difettuzzi nella macchina che dopo vi faccio anche vedere meglio però sì è passabile cioè si possono risolvere tranquillamente trappola su misura si parla in questo fascicolo qua andiamo avanti qua ci sono le scene del film velocemente perché sono già in ritardo e in questa uscita monteremo l'alettone posteriore e il pannello intorno e il pannello esterno allora prima fase andiamo a inserire questi due perni ma con la fatta attenzione a tenirli perché dopo va fissato il tutto con due viti pipì una per parte poi dopo recuperiamo questo qua e mettiamo un fermo nell'incavo indicato e tenendolo cioè da parte un attimo recuperiamo l'insieme della carosseria e mettiamo questa parte qua che abbiamo fissato che è praticamente l'alettone nell'1.8 e niente proviamo a sollevarlo e quando lo andiamo a sollevare dopo fissiamo il tutto con due viti BP anche nella parte in plastica quella che abbiamo messo quel alloggio questo qua vedete quindi lo fissiamo nel tutto con sei viti BP vediamo se c'è qualcosa altro sì c'è Jennifer Clyde e basta quindi andiamo al numero 89 mi sto sbrigando il più velocemente possibile perché se no il video diventerebbe troppo lungo e non va bene due secondi per vivere prima parte ballo quindi abbiamo l'episodio è praticamente episodio 4 stagione 4 ok e niente qua abbiamo e montere montiamo i due pannelli di vetro quindi capovolgiamo il nostro modellino facendo molta tensione e mettere questa parte qua mi raccomando fate attenzione che c'è una parte alta e una parte bassa allora la parte più bassa che è la deve essere verso sinistra la parte più alta B deve essere verso destra e poi lo fissiamo il tutto con due viti e om una per parte sinistra e d'asse poi mettiamo il pannello di vetro e uno va dentro e l'altro rimane fuori è così ragazzi non spingete non fate danni perché se no fate dei danni che non si castra io stavo spingendo per fortuna che mi sono fermato prima e me ne sono accorto tanto dopo in futuro secondo me andranno attaccati insieme tranquillamente senza che scappano e mettiamo anche l'altro stessa cosa per l'altro qua è facilissimo invece vediamo un attimo se ci sono altre spiegazioni sì c'è anche kit in aria spettacolo e andiamo a vedere il numero 90 scusate se sta durando un pochino il video ma ci sta due secondi per vivere seconda parte episodio 4 sezione 4 qua abbiamo tutte le spiegazioni del fascicolo che non ci soffermiamo e monteremo il parafango posteriore sinistro che ve lo faccio vedere dopo subito dopo allora mettiamo la presa d'aria qua e lo fissiamo con una vite BP e poi mettiamo questo perno qua che fate attenzione a prenderlo perché è veramente delicato e lo fissiamo con una vite GM questo è il risultato del componente numero 90 il sistema di ritenuta passiva tramite laser molto bella allora vi voglio far vedere intanto vi faccio vedere il numero 90 questo è in metallo e lo monteremo in futuro spettacolo guardate qua guardate qua che bello anche qua c'è il dettaglio molto bello vi faccio vedere adesso quello che ho fatto in kit allora guardate come sta prendendo forma ve lo metto qua allora abbiamo montato in queste uscite fantastiche in queste 10 uscite abbiamo montato il cofano che non è il massimo però almeno tiene qualcosa ecco qualcosa tiene poi abbiamo montato qua la parte posteriore cioè il paraurti davanti e la fiancata destra e sinistra poi ho messo a posto i tergicristalli che vabbè dettagli avevamo già fatto e le parti in vetro vedete che dicono che sono vetro poi non so e poi abbiamo messo anche l'unotto con quella parte il cart quello che è questo qua bello mi piace questo è praticamente il baule di kit non alzatelo troppo che se no fate danni e questo è il risultato di kit quindi il video finisce qua mettete un bel mi piace fantastico se il video vi è piaciuto commentate iscrivetevi al canale se volete e mi raccomando commentate che sto vedendo alcuni di voi che non commentano mi raccomando ci tengo quindi questo è tutto da Super Games modellista 00 e noi ci vediamo al prossimo video di kit il prossimo mese finalmente sono stato contento che abbiamo recuperato l'uscita che dovevamo del cofano abbiamo sistemato il cofano eccetera eccetera per fortuna quindi io vi aspetto al prossimo i numeri che spero di finirlo dai ciao ciao al prossimo numero al prossimo video al prossimo tutto e noi ci vediamo venerdì con un fantastico video andiamo a vedere l'anteprima ciao